Il mio amichetto Emanuele Big Jab dov'è? Dov'è il mio amichetto? Che stasera non è con me il mio amichetto Stasera siamo soli e sconsolati ragazzi Guarda sto coglione contro mano La gente non guida proprio un cazzo Good bro Per il pane per la Ah giusto perché ora stai pure in ospedale Tu non stai soltanto in cucina quindi cazzo E' vero ragazzi indossate le mascherine ragazzi Perché il mio amico a Londra sta facendo non so Mi pare del volontariato roba del genere in ospedale a Londra E c'è pieno di covid ragazzi Anche a me ha rotto il cazzo il covid Però adoperate tutte le precauzioni Che dice il decreto perché veramente la gente sta male E non è vero che il covid è una presa per il culo Perché ho visto io in prima persona la gente che è morta veramente Quindi fa